ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovo video io sono anna oggi siamo su pixel gun 3d allora oggi volevo fare un gioco diverso potrei fare il block crash 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 era già cominciato, quindi nel senso proprio, guardate queste volte poi si sente, si muove un po' tutto, è solo che sto dando le cuffie, quindi c'è il microfono che tipo, faccia tutto, muove tutto, non vuoi, ci puoi il tavolo, è morto qualcuno, mi sa? Non lo so, aiuto, sta cadendo tutto, si è massimo solo io, e sto tizio, e sto, wow, 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 sta calmo, no, sono morta, vabbè, anche lui è morto alla fine, no, ok, adesso è nata a seconda, ci può anche stare, 5, 4, 3, 2, 1, e cominciamo subito, mi sa che è già morto, no, non è morto qualcuno, no, non è morto No, sono ancora caduta, sto sempre parla a seconda, no, terza ho trovato, Allora, non devo morire, sono morta, come non detto, ok, queste partite si sono concluse con tutte perdite, quindi, perdono, spero comunque questo video vi sia piaciuto, se non è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete, e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, ciao a tutti, ciao, ciao!